eccoci qua benvenuti a tutti buonasera a tutti buonasera a tutti eccoci qua trovati questa nuova live finalmente oggi è mercoledì quindi oggi una live molto speciale molto particolare perché abbiamo qua due pionieri della fresca italiana e mondiale possiamo dire voi parlate anche altre lingue io l'inglese lo so bene lui sa il dialetto il dialetto napoletano e basta è che comunque una lingua quindi è regolare diamo il benvenuto a nevelo stirato e filippo champagne buonasera a tutti buonasera ai poveri in questa avventura mi accompagnerà il mitico jody cecchetto eccoci ciao mio collaboratore lui è quello buono di solito io sono di solito quello buono che cerca di mettere un pochino di più le cose tranquille a posto io invece sono magari un pochino più caccia però in base anche io sono una persona buona come state come state ragazzi lo posto bene io ho bevuto fino adesso sto bene l'abbiamo visto in una storia ciao filippo abbiamo visto una storia che pubblicato in gaina prima di venire qui diciamo che ho fatto un aperitivo un po lungo ma è la prassi della mia vita quotidiana della mia la mia prassi giornaliera normale amministrazione e di prassi ti chiedo a che ora ti sei svegliato oggi oggi mi sono svegliato alle tre anche io ci siamo svegliati insieme probabilmente si perché ha un po i tuoi orari sì sì anch'io sono svegliato perché ieri sono andato al casino ho fatto tale sono andato a casa quel mattino poi dopo che gioco al casino mi piace rilassarmi a casa ho mangiato ho bevuto una birretta sigarettina e poi sono andato a letto tranquillo e via a letto comunque giusto tra l'altro io ho mandato un audio a cioè mi ho scritto un messaggio a filippo e gli ho detto filippo mi raccomando per stasera cerca magari di visto che twitch comunque è vannabile stare male lui subito mi ha risposto io non sto mai male quando mai sto male è vero nella scorsa live hai proprio detto che tu nella tua vita nonostante le tue abitudini non sei mai stato male a me è successo di dare ai gatti dare ai gatti intendo rimettere ovviamente però proprio raramente magari quando ero più giovane adesso male che vada se esagero mi addormento quindi ok facciamo così visto che magari ci sono molte persone che non vi conoscono partiamo subito con la presentazione se doveste in un minuto una alla volta farvi conoscere chi non vi conosce cosa faccio che personaggi siete che che persone siete inizia tu filippo com'è che ti presenterei mi presenterei innanzitutto sono è filippo il mio nome sono un grande amante del bere bere bene ovvero champagne vini rossi e anche qualche super alcolico e poi sono ludopatico frenetico mi ballo tutta la fresca a gioco a bere qualche sbarbato ogni tanto che ovviamente la porti fuori al ristorante io sono sono un signore un po' all'antica le offri la cena le offri la serata diciamo che la mia vita è dedicata al bere al gioco e a qualche fanciulla ok perfetto nevio tu com'è che ti presenteresti a chi non ti conosce come mi dovevo presentare in un minuto mi presento così nella mia vita ho sempre lavorato prima che è una bella cosa ex miliardario posso dirlo ma miliardario in lire o in euro ok alla canna adesso regolare e quindi mi piace il gioco come filippo ludopatico adesso un po' meno rispetto a prima ma prima altro che ludopatico proprio non alla canna ancora di più e la mia vita mi alzo la mattina vado a lavorare non male lavoro faccio corriere e nonostante ciò adesso ho le possibilità anche di fare diciamo diciamo possiamo dire influencer insieme al mio amico filippo naturalmente grazie anche a lui devo dirlo vabbè siete un bel duo siete un bel duo sono una bella coppia una bella coppia ma nevio ti faccio una domanda un po' provocatoria anche in base a quelli commenti che ho letto a te non ti pesa dire cioè io avevo veramente una miriade di soldi in banca e adesso magari mi trovo a fare un lavoro che mi paga comunque un sedicesimo rispetto a quello che guadagnavo prima no 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 rimango sempre la stessa persona che ero prima quindi tu pensi di essere nato per non essere uno che passa la vita da ricco no 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 non mi interessa anche quando ce l'avevi filippo mi riconosce da tanti anni non l'ho mai dimostrato non l'ho mai fatto mi sono esposto voi li conoscevate quando lui ancora non era stirato? si si lui aveva 16 anni io avevo 16 anni e aveva cosa ne aveva 34 ma veramente? ci conosciamo da 30 anni come no certo ci ha conosciuto in sala corsa a giocare i cavalli caso strano eh perchè io avevo 16 anni che già ad ora giocavo le due 300 mila lire ma non si può che sono soldi e beh io entravamo lo stesso non era un problema ma si fai indietro allora erano altri tempi non era un problema comunque a parte che poi non si può ma anche oggi vai nelle sale corsa e chiede a Nevio vedi anche i minorenni poi lasciamo stare che è sbagliato sono d'accordo e qua non voglio lanciare un messaggio sbagliato comunque ci siamo conosciuti lì io già giocavo le due 300 mila lire e vedevo Nevio che giocava allora a gara giocava 10-20 milioni che insomma è come oggi se uno giocasse 30-40 mila euro a gara eh non a giornata a gara e dicevo cavolo quello carica quello carica seguiamolo seguiamolo che secondo me ci fa vincere è sempre stirato mi ha mandato a rubare mi ha mandato a rubare mi ha mandato quindi cioè in realtà vi siete conosciuti che tu avevi 16 anni giusto? e lui ne aveva 34 mi hai detto quindi tu un po' lo vedevi come non so una sorta di nipotino non so qualcuno da vabbè Filippo poi si è andato subito in sintonia in simpatia lui poi appena mi ha conosciuto diciamo subito non dico innamorato nel senso lato non male no? e poi ci siamo persi di vista e poi vi siete ritrovati quanto tempo fa? ci siamo ritrovati una quindicina di anni fa che io sono stato in un concessionario a comprare una macchina una Volkswagen adesso mi ricordo la macchina easy e allora insomma ero andato io a farmi fare un preventivo sai a chiedere dal venditore cosa costa cosa non costa vabbè mi da sto preventivo esco fuori da sta concessionario e vedo lui vestito d'arancione che mi fa Filippo Filippo non ci credo e dico cavolo nevio ma che ci fai qua nevio? e lui già era nevio allo stirato? si 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 no aspetta era nevio dopo l'ho messo e dico ma cosa ci fai qua nevio? poi lo vedo con i pantaloncini poi vedo la maglietta e ti faccio ma che cavolo stai facendo? e guarda Filippo perso tutto sono andato alla canna totale e adesso faccio il correre per la TNT allora da lì no? e mi dice però Filippo guarda che qualche cavallino non lo gioco ancora e ci scambiamo i numeri no? ci scambiamo i numeri anche lì ogni tanto mi chiamava Filippo guarda che sto cavallo secondo me è pronto giocalo sono andato 20 cavalli non ne fosse arrivato uno qualcuno è arrivato l'ultimo è arrivato qualcuno comunque poi da lì ci siamo ripresi abbiamo cominciato a frequentarci anche perché lui purtroppo non secondo lui secondo me lui usciva con della gente molto ricca ma proprio ricca economicamente però era gente di... posso dire un po' qualche parolaccia? si parolaccia era proprio gente di merda gente del cazzo che lo trattavano anche male quindi lui usciva giustamente lavorava tutta settimana usciva solo a sabato sera e ogni tanto passava a salutarlo perché io di solito a sabato sera facevo poco perché ero stanco sai sono in giro tutti ora c'è una mentalità un po' diversa di adesso che esco tutte le sere lo andavo a prendere l'ho tirato via da sta gentaglia gentaglia proprio quella classica gente con i soldi con la puzza sotto nasi che tra l'altro gente milionaria è che da lì poi la mia idea di dire poveri nasce da loro perché era gente milionaria perché andavano lì al ristorante e mangiavano petto di pollo e per tutto rispetto per i polli mangiavano petto di pollo bevano la coca cola spendevano 20 ore a testa e tra l'altro gli facevano mettere i soldi anche a Nevio quindi Nevio lo porto con me dico Nevio comincia ad uscire con me andiamo a farla mangiare abbiamo champagne andiamo da Davide ci divertiamo facciamo casino e da lì ci siamo riprese adesso non ci siamo più staccati ovviamente quindi ora pensi che Nevio faccia una vita migliore sicuramente nonostante nonostante Nevio sia stato stirato o quello che sia con me chiaramente io lo faccio con il cuore non rinfaccio niente a nessuno insomma posso dire che Nevio oggi alla sua età ha bevuto penso tutti gli champagne del mondo cioè della Francia con champagne francese li ha bevuti tutti no li ha bevuti anche prima prima che bevevo è sei chiaro non c'erano i champagne di adesso ad esempio prima c'era solo Dompero, Crystal la vedovella, Rufflico nei night io parlo ai miei tempi i champagne ci sono adesso cioè sono tutti i champagne nuovi che io non conoscevo e tramite lui poi da lì conosciamo un altro milionario questo un plurimilionario che ci invita nella sua mega villa in Brianza con la piscina altro pisciaturo scusate se lo dico no per me lo è per te no per me è un pisciaturo ci invita lì facciamo questa grigliata per carità ospitalità un gran signore non si discute e poi dopo da lì dico Nevio perché non ti scrivi anche te su istra io mi ho scritto da un po' di tempo e secondo me lui mi dice filo facciamo un nuovo Nevio alla canna e dico no Nevio alla canna a me non mi fa impazzire la canna sembra può avere tanti significati mettiamo Nevio lo stirato che sei stirato veramente e mi ricordo che Nevio nel primo mese fece più di 15 mila follower ovviamente io lo sponsorizzai con il cuore però vedi io diciamo che a me mi dicono lungimiranza ma io mi dicono che sono molto bravo anche con i miei amici c'è il papà di superman c'è il ragazzo dal tag gigante c'è il ragazzo depresso io sono molto bravo a dare i soprannomi che alla gente poi rimane impressa a tutti quelli che ci seguono ovviamente e quindi poi da lì Nevio ovviamente è un personaggio è bravo fa ridere è divertente chiaramente ha avuto successo anche lui cioè quindi la bravura sta a me a individuare il nome ma soprattutto a lui che insomma a portare avanti il personaggio per forza certo poi le parole te le inventi capito sono parole che ci usavano tanti anni fa ma quella è tipo regolare 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 ballarsi la fresca a cavallo poveri nasce nasce siamo stati i primi fumo io e Davide dai dell'accelenza che saluto che è mio amico mio fratello fumo i primi io andavo dieci anni fa andavo nella vecchia gintoneria che siccome Milano adesso posso dirlo Milano adesso non so adesso perché io discoteche le frequento vado proprio raramente Milano una volta cioè dopo le due di notte o vai in discoteca o vai nei night scusami a zoccole in quei posti lì che Milano dopo le due praticamente è una città morta a differenza di quando io avevo la vostra età la tua età che conoscevo vent'anni a Milano c'erano cento locali aperti tutte le sere ma molto meno rispetto a prima se ti posso dire se ti posso dire è il 70% in meno di quando io avevo vent'anni e puoi chiedere a tutti quelli che hanno la mia età chiedi anche a Nevio che Nevio ha 60 anni puoi chiedere benissimo e ti dico quindi dove vado dove vado era una domenica sera di febbraio avevo bevuto in un locale a Milano avevo avuto qualche Don Perignone ero carico e non volevo andare a casa ma non volevo andare nel classico discoteca a pagare una bottiglia 600 euro o andare a night per pagare la compagnia che assolutamente non ho bisogno poi ho fatto in passato quindi una mia amica mi disse guarda che ha aperto sto locale top si chiama Gintoneria però c'è tante bottiglie di champagne a prezzi economici quindi sono andato la era un salotto magnifico bellissimo bottiglie a prezzi e lì si vedevano gente lì veniva veramente gente importante i primi tempi nella Ginto veramente ma gente di una certa anche nobiltà o personaggi che però a parte qualcuno spendevano poco quindi da lì io e Davide insieme abbiamo individuato il termine poveri per dire poveri avete la fresca non lo spendete ovviamente non è poveri il vero povero il significato per carità massimo rispetto per le persone che hanno le possibilità io sono primo che se posso dare una mano troppo dire Nevio ho sempre aiutato qualsiasi persona certo ma io vorrei fare questa domanda Nevio tu nella tua vita di tutti i giorni anche magari al lavoro cioè tu continui a dire regolare povero sempre appena entro appena entro in ditta tutti poveri poveri stanno salendo le scale povero conosciuto da un minuto mi viene ormai automatico poi la gente che ti ferma Filippo lo sa specialmente in discoteca poveri poveri non dico asfissiante non sono certe persone che magari ti stanno un po' troppo addosso ti danno fastidio però la cosa bella sai cos'è? che tutte queste persone tutti i ragazzi giovani ma ti vogliono bene cioè incredibile cioè ti vogliono veramente bene cioè Filippo io quando andiamo quando facciamo le serate in discoteca cioè è una cosa allucinata cioè io tante volte ci guardiamo e diciamo ma Filippo non è possibile una roba del giovane ma anche prima eh prima di adesso ma ce lo meritiamo noi no io dico sempre l'importante è che le persone che siano in discoteca che siano in un parco che siano in un locale che siano al cinema l'importante è che siano educate perché se un ragazzo giovane che ho già spiegato l'altra volta che avevamo parlato insieme che oggi secondo me i giovani mancano non hanno rispetto per le persone più grandi non dico tutti non generalizzo però se un ragazzo com'è giovane si comporta bene io sono disponibile posso fare 100 foto gli saluto tutti i parenti gli saluto i nonni gli saluto chi vuole però se un ragazzo è mai educato si presenta male gli dico ascoltami vai da un'altra parte raccontatemi lo stile una situazione dove proprio quasi avete detto vaffanculo beh a me te l'avevo detto forse l'altra volta una volta siamo andati a Piacenza io e Nevio anni fa a fare una serata da un amico così in amicizia siamo andati dove dei ragazzini mi hanno fermato a me ah ma tu sei Filippo Champagne sei un coglione ti aspettiamo fuori cioè poi ero ragazzino di 19 anni e di decente qualcuno che magari proprio ha detto minchia basta facciamo un caccolo sai cos'è che ogni tanto si trova sempre quello pesante che insiste sta un'ora che magari mi capita ma è successo anche da Daide che poi sono bravi ragazzi nessuno mette in discussione questo però sai arrivo dopo due minuti mi fai il video a Greenbaud mi fai il video a Jody mi fai il video mi fai il video a Nevio e ad un certo punto ti fai oh ma quanti cazzo di parenti c'hai? c'hai 100 parenti anche il rispetto reciproco capisci quindi sai però sai giustamente i ragazzi ti vedono ti immaginano cioè poi per carità io ripeto come dice Nevio tutto questo è bello anche perché se abbiamo dei follower è grazie a loro che la fortuna per modo di dire è successo che abbiamo avuto sui social è grazie ai seguaci che ci seguono però l'importante che ci sia l'educazione se c'è l'educazione io Nevio facciamo tutto quello che è lecito e legale da fare siamo disposti a fare tutto io tanti rispondo non tutti perché arrivano 3.000 messaggi però qualcuno risponde come a me tante volte bravissimo i messaggi mi mandano i messaggi io purtroppo mi scrivo 2.000 messaggi al giorno tu sai che su Instagram sulla destra io li apro però tante volte trovo messaggi dicenti che all'inizio Filippo sei il numero uno Filippo sei il grande poi io non avendoli visti questi messaggi non rispondo e dopo acquinto stesso messaggio sei un coglione pezzo di merda ti stacco la testa se ti vedo in giro madonna te lo giù ma roba veramente come è vero tant'è vero il contrario come ho visto tantissimi haters che perché io se è un fake non rispondo neanche se non metto la faccia non rispondo neanche tantissimi fake che mi hanno insultato che siamo diventati degli ottimi amici sui social e gli dicono ma perché mi insulti perché ce l'hai con me no ma parla pure e poi alla fine sono diventati i miei primi follower cioè a volte dal follower diventa haters si ma sai perché perché mettendosi nel vestito dell'hater sanno che hanno più attenzione da te perché ti fanno rosicare ci sono molte volte in cui magari ti scrivono un insulto vedono che gli rispondi fai no no ma scherzavo sei un idolo però quel punto scusami io diciamo diciamo con le poche persone se capita che ti rispondano male io non rispondo male no esatto cioè non do non gli do è un tuo pensiero uno gli ho scritto è un tuo pensiero lo pensi contento tu contento tu e io ti dico perché questa è la mia risposta già io nevio nevio magari un pochino medio già noi cinque sei anni fa già eravamo conosciuti magari non a sto livello ma già andammo in giro a fare le foto troppo dire nevio benissimo ma senza problemi noi tu e Davide io Davide e nevio e già giravamo qualche locale nel nord e centro Italia ti dico tanta gente cioè magari mi scriveva pezzo di merda io all'inizio sai ero un po' erano le prime armi e rispondevo anch'io ma che cazzo sei viene a dire però poi diventava sai il classico botta e risposta dalle 1 da la tastiera e finiva lì però sai a volte ci rimanevo male dico ma è questo caso insulti io non faccio che alla fine a me tutti mi criticano che gioco che bevo ma io a chi faccio del male cioè c'è la gente che stupra le ragazzine c'è la gente che ammazza come è successo ultimamente una cosa che io gli darei la pena di morti a quello che è successo senza fare nomi cioè ci sono la gente che spaccia quello che fa e la gente pensa a criticare Filippo Champagne perché beve e gioca ma diamo i numeri cioè c'è gente che ha ucciso le persone dopo due mesi sono fuori dalla galena ma questa sono cose assurde io non faccio del male se faccio del male faccio del male a me stesso come salute parlo ovviamente del bere o come portafoglio economico se i soldi sono di mio padre di che sia della mia famiglia ma io a chi faccio del male io non vado a rubare i soldi a Greenbaud a Nevio o a Giodi non vado a prendere i vostri soldi e mi riballo al casino io sono soldi miei se io vengo qua e porto mille euro mi va di bruciarli in diretta poi io non lo faccio perché non bruciate mai i soldi ragazzi e non stracciateli mai perché porta una sfiga io sono un giocatore micidiale non strappate mai perché l'hai fatto? no 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 ho visto gente che l'ha fatto non strappate neanche le 5 euro e se vi cade 20 centesimi in strada raccoglieteli sempre ma sono 20 centesimi che sono sempre soldi se è chiaro e ti dico io però posso venire qua con mille euro poi certo qua sono più a fuoco posso anche bruciarli sono cazzi miei assolutamente eppure tutti addosso a Filippo Filippo non va bene esempio sbagliato per i giovani a massacrarmi sempre sei molto superstizioso? no no però sul gioco si sulle altre cose sul gioco magari vado a giocare se ci sono vicino a me persone negative io credo in queste cose e non le voglio vicine tu pensa che lui io quando vado a casino con lui Filippo lo sa io sono un giocatore lui gioca tante volte Filippo stai dietro a me non metto mai dietro lui lui lo sa sto lì un minuto e poi me ne vado però io credo nelle persone che ti danno l'energia positiva hai sempre perso quindi vuol dire che non funziona no nel senso che da giocatore mi dà fastidio stare di fianco a un altro gioco senza giocare se gioco è un conto ma se non gioco stare dietro lui mi dà fastidio perché pensi che ci sia anche solo un'influenza no no proprio è una questione sono giocatore ti capisci? si si e quindi io quando lui gioca a Blejack io ad esempio vado lì sono un attimo con lui ma neanche Guarci neanche stai un po' lontano dalla tua parte del tavolo no no piuttosto giro per il casino gioco alle macchinette che lui sa che mi piace ogni tanto buttare via qualche soldo alle macchinette e sto lì e basta poi dopo dopo vede la sua sorpresa speriamo speriamo che lui dice dice Nevio stasera la settimana scorsa perdevo perdevo 4 mila dei miei io ho chiesto io non avevo portato tanti contanti perché non volevo rischiare di fare un bel modo di sangue credito la carta non ho neanche io ho un banco normale io non ho carte di credito assolutamente assolutamente e quindi lei ha chiesto a Nevio allora gli ha chiesto a Nevio dammi duemila euro ma minchia ma l'ho stirato ma è stirato ma hai capito ma poi chiedi insomma l'ho stirato ma io non è che gli chiedi i soldi poi poi gli eri dai certo però io con i 2 mila che mi ha dato Nevio ho fatto 16 mila euro vinto i 10 mila puliti ma gli hai dato tipo un po' di vincita? no gli hai dato 2 mila euro se dovessi vincere Nevio non è un problema però dico no poi quella sera ho vinto anche io caso strano ah ok caso strano pensa perdevo 4 mila mi ha dato 2 mila dei suoi 2 mila blackjack ho fatto 16 mila ho vinto 10 mila puliti vedi che i miei soldi portano bene no no è andato in culo è andato in culo è andato in culo ma ti faccio questa domanda è andato in culo ci dice così nel gioco è andato in culo cosa vuol dire che è andata bene è andata in fortuna ah ok Filippo se un giorno nevi viene andata ti dice Filippo ti vuoi chiedere una cosa sono rientrato proprio nel loop del gioco d'azzardo nella maniera più pazza ho bisogno che mi dai 10 mila euro perché devo pagare dei debiti in cui veramente non posso non farlo gli ai daresti? subito 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 senza neanche pensarci se ce li ha subito ma se oggi oggi mi sono svegliato ho anche fatto una storia non so se l'avete vista stamattina mi sono svegliato una ragazza non faccio nomi non quella che ho nominato l'azardo faccio nomi e bella io sono un no perché è conosciuta non è l'ultima arrivata sui social come si dice quando benevole benevole non so come si comunque io sono benestante no 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 con aiuti benevolente benevole benevole penso comunque questa ragazza qua mi alza mattino Filippo sono in difficoltà non è che mi puoi prestare i soldi che mi devo fare mi devo prostituire a parte questa ragazza qua l'ho già aiutata più di una volta e non gli ho fatto mancare mai niente poi forse una ragazza che tutte le storie vedo vedo tutte le storie che tutte le sere al ristorante a mangiare fuori a bere il vino e a bere il champagne ma magari va a scrocco ma lascia stare che va a scrocco probabilmente andrà a scrocco ma non mi interessa però sono due mesi che non ti fai sentire ma avessi anche scritto stamattina neanche ciao Filippo come stai subito Firo non è che mi puoi aiutare i miei dei soldi ciao Firo come stai mi svegliavo tutto bene tu guarda c'ho un problema ok cosa c'è allora è un discorso ma io al primo messaggio che leggo ma vai a rubare ma avete mai fatto l'amore? no questa ragazza no solo baciati e basta ok ti vorresti farci l'amore? ma è una bella ragazza però abbiamo provato ma non andiamo d'accordo quindi non sto neanche a speccare il mio tempo come lei sicuramente non speccherà il suo tempo però c'è un'amicizia visto che io ho già in passato l'ho aiutata mi ha chiesto dei soldi l'ho fatto con il cuore buca roba eh non è che premo di cifre da giocatore però che trovo un messaggio stamattina non mi avesse scritto ciao Filippo come stai Firo sono in difficoltà mi dai i soldi oh ma che cazzo è però sai la cosa strana la cosa che a me cioè certa volta rimango meravigliato e Filippo lo sa persone che non senti da due anni che non senti una vita e adesso che sei diventato che sei andato capito quasi all'apice dicono cazzo oh Nero come stai? ti ricordi? possiamo uscire ti ricordi ma possiamo uscire una sera da anni e mangiare insieme c'è gente che ci ha insultato a morte fino all'altro ieri che ci hanno chiamato per andare nel suo locale ma di cosa parliamo? si si è incredibile è incredibile gente che non senti per anni però sai poi io lascio andare cioè gli rispondo per il mondo del cielo non è che sto io sono abbastanza tollerante su quelle cose lì cioè non sto lì però tengo sempre le distanze nevio ti faccio questa domanda che mi sono sempre posto guardando le puntate della Zanzara tu hai un sacco di debiti con le banche no? si ma banche tipo Montepaschi si si vabbè un po' di banche un po' di banche c'è un po' di banche che tu non puoi entrare in banca se entri in banca ma adesso c'è la sua foto segnaletica c'è la sua foto ho ricercato ma scusami cioè se tu la domanda è che tu non puoi avere delle proprietà? assolutamente puoi? ma va non posso neanche non posso comprare la macchina vedete non posso intestarmi niente cioè tu non ti puoi comprare una casa sennò te la zanzano ma stai scherzando ma neanche le stringhe mi posso delle scarpe mi posso intestare se ti testi qualcosa sei rovinato le banche vengono scusami ma tipo a casa tua il televisore te lo portano via no? ma che portano via a casa mia se viene a casa a casa mia qualcuno ti tocca il televisore gli stacco la testa poverello ci sta io sono amante della televisione ma scherzo guardi tanta televisione? non possono vabbè dicono abbiamo bisogno di proprietà non c'è più non c'è più ma no allora a parte che io non ci ho intestato io ci sono letto la cucina e basta per farvi capire questo non è neanche intestato a me ok tanto per farvi capire stiamo parlando dello smartphone tu guardi ma io ci ho intestato qualcosa no niente e allora cazzo io sono regolare però non ci ho intestato nulla cioè non mi intesto niente poi non parliamo discorso di banche io sono contrarissimo alle banche anche l'altro giorno mi manda un messaggio mi manda una foto mio amico che ha una prepagata che usa per giocare no sai casino slot online il messaggio gli è arrivata una mail con il numero della prepagata signor tale dei tali guardi che non ci non sono gradite le operazioni che lei sta facendo con la nostra carta quindi gliel'abbiamo bloccata vabbè ragazzi ma robe dell'altro mondo ma questi ma questi ma questi poi ne parlerò anche un domani un domani in altri programmi ma questi qua ragazzi ci rompono i coglioni con i nostri soldi ma questo cos'è una tirannia cos'è ragazzi ma diamo i numeri ragazzi tu sei per essere il contante ma per forza non esiste ma a parte il contante ma sai perché perché ragazzi qui bisogna adesso io non voglio fare l'economista potrei anche farlo perché la faccio girare l'economia è regolata l'ho già spiegata però ragazzi ma secondo voi l'eliminazione del contante adesso voi siete due ragazzi intelligenti giusto? jody? si e greenball secondo voi l'eliminazione del contante chi favoreggia? rispondetemi una vi faccio la domanda io adesso allora io io ti devo dire la verità chi favoreggia? rispondimi le banche ha risposto nevio perché le banche perché tutte quelle operazioni l'ha spiegato ci sono mille esempi non voglio arrivare io non voglio arrivare ma che è nero ma che è nero cosa stai dicendo cosa stai dicendo che nei paesi dove gira più contante non c'è evasione fiscale informati bene io le studio queste cose non sono ultime perché la gente pensa a Filippo un alcoolizzato un giocatore un coglione Filippo ha studiato io sono anche diplomato ho fatto anche università e ho fatto anche una scuola di cinema aspetta fammi finire se tu mi dai 50 euro ascoltai bene 50 euro io vado da lui a comprare dei gioielli gli do 50 euro lui questi 50 euro li prende ok? li prende lui questi 50 euro da Jody va da lui a prendere i fiori gli passa e quindi 50 euro rimane 50 euro se io vado da lui e pago col banco ma 50 euro i suoi gioielli si prende la commissione che si becca la banca quindi da 50 diventa 39 euro 49 euro i suoi 49 va a comprare i fiori da lui un esempio da 49 diventa 47 dopo 30 passaggi il 50 euro vale zero e chi si è intascato i soldi? le maledette banche che fanno la bella vita coi cazzo di nostri soldi perché poi attenzione perché adesso le banche non voglio fare il fenomeno le banche è normale che con noi persone normali che abbiamo qualche soldino o qualche risparmiatore ti rompono i coglioni io vorrei vedere che se un domani faccio sei al su pena l'otto vinco 300 milioni di euro secondo voi la banca mi rompe i coglioni se vado a casino e stisci un milione rispondetemi mi rompe i coglioni si dice se Romeo ne strisci anche 10 di milioni che ci fa una cortesia eppure rompono i coglioni a tutti i pesci piccoli che siamo noi e questa è una vergogna una vergogna ragazzi non mettete più i soldi in banca lasciate stare cazzo alla vecchia antica se no facciamo la banca della gallina portate i soldi a me è nevio a me è nevio ci portate la fresca e vi facciamo spendere tutto il cazzo che volete in realtà il punto scusami che con le banche mi altero io perché a me le banche mi hanno chiuso tre conti io non posso più aprire un conto in banca sapete dove ho i conti in banca io? dove ce l'ho? in Svizzera no non in Svizzera sono in Italia le poste italiane che fino a cinque anni fa li pigliavo per il culo chapeau le poste italiane sono dei signori chapeau le poste italiane suo Filippo non c'è problema lo ha passato chapeau le poste italiane e la gente li piglia per il culo chi c'è contro le poste italiane chapeau le poste italiane in che senso al tassista gli dai 50 euro ma puoi spenderli non puoi essere scusate ma sai perché la gente va delle tasse? sai perché la gente va delle tasse? perché questo paese paga il 60% di tasse ragazzi allora ragazzi ma lo scherziamo io ex imprenditore anno 88 89 primo anno 90 sì 90 io metto su questa attività normale fatture tutto regolare tutto regolare certo punto facevo due conti col commercialista ma che cazzo è? ma io guadagno 100 e pago 60 ah bravo 60 quello solo dopo posso prendere una sigaretta? sì sì posso prendere una sigaretta? 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 scusate ragazzi poi non la seguo naikos io vi dico una cosa ragazzi l'Italia l'Italia è il paese dei comunisti è sempre stato paese dei comunisti anche se c'è la destra comanda la sinistra questo te lo dice Nevio Nevio te lo dici te lo metto qua per iscritto tu sei di destra destra estrema sempre genitori nonni a parte che non voto da 30 anni non voto più io sono ex almirante il vecchio se lo conoscete per me è il top pensa che questo era l'unico politico al mondo che adorava Berlinguer che lo rispettava che era di sinistra chapeau tanto di cappello per farvi capire che personaggio era se io metto un'attività e pago il 60% ma come cazzo fa uno che mette un'attività a non cercare di fare nero e vadere io voglio una spiegazione logica io pago il 60% di tasso bravo secondo te c'è logica è una vergogna allora tu vai in Germania e paghi il 25% in Svizzera il 15% in Francia il 25% in Spagna forse ancora meno in Grecia non ne parliamo noi abbiamo il debito pubblico più alto d'Europa mi segui? ma secondo te perché abbiamo questo debito pubblico? fatti una domanda perché la gente evade perché sono troppo le tasse? no tutte cazzate perché allora? tutte cazzate perché allora? perché noi facciamo i ponti che si ferma cioè facciamo il ponte dell'autostrada che a un certo punto ti trovi il campo davanti poi facciamo i palazzi su in montagna a 7000 metri grattacieli cioè tutti i soldi buttati buttati ecco perché c'è il debito allora c'è un mio amico che ho conosciuto non per l'evasione ho conosciuto mio amico che lavora in Giappone in Giappone paga l'8% di tasse e ti dico un'altra cosa paga l'8% e paga una cassa tipo di previdenza bravissima che paga adesso non so di tutti i trimestralmente messemente ogni volta che va a fare la pulizia dei denti in Giappone sai quanto spende? dimmi una cifra qua in Italia costa da 100 euro a salire indovina cosa paga a fare la pulizia dei denti 20 euro 20 euro ma di cosa pagare? e in Giappone informatevi bene il contante gira a fiumi non è che deve andare se deve andare fuori a mangi che poi anche lì tu pensa pensa alla gente quanto sono ignoranti gli invidiosi una volta vado da Bulgari eravamo in 5 faccio beviamo delle bottiglie importanti allora c'era tu sai che adesso il contante fino a sotto 5.000 4.000 prima era 3.000 quindi viene fuori un conto da 3.500 chiaramente paghiamo io avevo dei pezzi da 500 e metto 3.500 morale questi haters hanno segnalato questo hotel dove sono andato questa proprietà dicendo che bisognava stare sotto i 3.500 ma ignoranti che non siete altri ma se siamo noi 4 a spendere 3.500 500 mi da Grimbaud 500 le metto io 500 le mette Jody 1.500 lui mette 2.000 il problema è risolto ma non ci arrivano neanche poi tu devi vedere quel video lì che gira su TikTok 2.000 commenti 1.900 insulti tutti su di me vergognati evasore truffatore ma ragazzi ma roba è senza senso ma in che paese siamo questo qua è il paese dei falliti l'Italia è il paese che deve fallire deve fallire sto paese deve fallire dove andresti a vivere? in Svizzera tutta la vita tutta la vita ma perché non ci sei andato a vivere? perché non sono come la gente pensa che sono così ricco purtroppo non ho le possibilità per andare a vivere Svizzera che Svizzera ci devo andare e voglio avere la fresca pesante io sto bene non mi la mento io parlo come Filippo non ho le possibilità ma io andrei subito in Svizzera aprirei subito un conto in Svizzera ma tu non hai soldi se io ti dico quanti soldi hai in banca tu non mi puoi rispondere in banca ho zero adesso zero forse 100 euro quindi tu anche perché in banca 100 euro no tutto contante io in banca mi hai chiesto una domanda io in banca c'ho 100 euro non di più in banca alle poste italiane però letteralmente però letteralmente i modi per avere contato o hai criptovalute o hai che criptovalute che comunque guarda che il futuro mi arrivano 2000 euro mi arrivano 2000 euro sul conto corrente li vado per levare e me li spendo cash guarda che il contante futuro non hai vietato per levare il contante futuro sono le cripto ve lo dico sono molto scettico su questa cosa delle cripto molto scettico anche perché mi è successo in passato di pubblicizzare una cripto in passato una truffa legalizzata e sono stato truffato pure io non faccio nomi che è meglio no 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 io non parlo di di personaggi famosi qua sono in ballo personaggi famosi col grano vero e mi hanno truffato anche a me io poi sono un signore fortunatamente mi hanno truffato 30 mila euro ok lascio stare perché non so se sono buono o sono coglione a volte una truffa colossale ci hanno fatto a me e tutti gli altri piccoli risparmiatori loro che erano in 10-15 hanno fatto i milioni di euro lasciamo stare che è meglio gente che vive in svizzera fa la bella vita e neve lo sa chi sono no ma il fatto questa cosa delle cripto che negli ultimi anni si sta creando tutta questa serie di cripto scam che vengono pubblicizzate per poi totalmente andare a zero perché ci sono quei critici che poi anche lì la cripto è legale o non legale la cripto non è riconosciuta no siamo in una zona grigia è un borderline perché non è riconosciuta sai le banche hanno delle regole da rispettare ma la cripto può fare qualcosa di vuole anche i contanti ma no aspetta voi siete giovani anni 70 anni 80 sino anni 90 girava tanto contanti giusto? come andava l'Italia? sinceri? siete giovani? non siete per la storia gli anni 80 gli anni del top del boom dell'economia e quindi e quindi tu vieni qua a dirmi mi togli il contante e poi attenzione lì vi ho detto una cosa giusta nevio cioè guardate il problema del contante ragazzi è solo l'Italia ragazzi è solo l'Italia in Germania fa quello che vuoi in Svizzera se vai in banca per arrivare 50.000 franchi o euro lì va a scelta gli avviso una prima non c'è prima il suo gribao venga non è che ti dicono deve firmare i moduli antiriciclaggio di sta coppolazza di antiriciclaggio queste cose qua deve firmare il modulo non ti dico niente in Francia pure in Inghilterra pure ma che cazzo era un petticolio di scuola in Italia ma andate a rubare va andate a rubare tutti quanti se tu vai a aprire un conto in banca adesso sai quanto stai lì? un'ora vabbè perché devono vedere i tuoi dati sì ma un'ora negli anni ai miei anni andai a aprire un conto in banca sai quanto ci vorrei? 5 minuti ciao vabbè però insomma diciamo che non darei come dire miei a un sistema che ti ha permesso di lasciare i figli i debiti allora lascia stare ma quella è una cosa sua che ha sbagliato ma lascia stare indipendentemente a parte che le banche e te lo dice Nero l'ho fumato ma posso scusami ci hanno sempre un fondo perduto cioè la banca dice noi abbiamo 100 miliardi sanno che un miliardo due miliardi se ne vanno le cozze ma è sempre stato così sì sì un fondo perduto che loro sanno che ci sono i cavalli come Nero è regolare certo go sanno che ci sarà qualche insolvento cioè ragazzi però io me li son ballati i soldi non è che cioè li ho rubati vabbè me li ho andati e poi dopo sono scoppiato me li sono giocati sai sono malato sono ludopatico ma non hai mai pianto? mai 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 pianto sulla televisione non hai mai avuto un crollo un crollo emotivo io ho 40 anni mi sono riboccate le maniche faccio corriere a 40 anni a 40 anni a nevio ma sa me quando l'ultimo conto che mi hanno chiuso in banca o il penultimo non mi ricordo mi è arrivata una mail dalla direzione generale di questa banca una mail con tutte le mie movimentazioni in un anno e c'era con un saldo di non mi ricordo se più o meno 400 euro per 100 140 150 e c'era scritto tutte le cose prelievo casinò prelievo casinò prelievo in banca spesa a sala slot spesa online ma ragazzi ma questi mi hanno contestato quello che ho fatto con i miei soldi ma perché è normale? perché io i soldi avendo quei soldi che poi entravano uscivano quello che sia è normale che la banca non può utilizzarli per fare i loro interessi e per fare la loro fresca e per fare la bella vita dicono i soldi di Filippo sono inutili questo li mette li prende li spende li riporta se ne va quindi Filippo non è un cliente gradito ed è una cosa vergognosa qua ci vuole una cazzo di legge io ho fratello senatore che poi ci parlo penso due parole in un anno ma ragazzi ma fate una legge che io metto 10.000 100.000 un milione se io metto un esempio 200.000 euro in banca e una volta chiamo a Grimbaud e voglio fare i miei 50 anni fra tre anni faccio 50 anni voglio spendere 100.000 in champagne e mignotte la banca me li deve dare e li voglio tutti i cash e me li dovete dare tutti i cash oggi se vai l'ha detto un comico oggi se vai in banca ragazzi a chiedere un prelievo di 4.000 sembra che fai una rapina sembra che fai una rapina sembra che fai una rapina ragazzi andate in banca a chiedere domani tutti voi che ci seguite andate a chiedere un prelievo non di 500 euro allo sportello fate sotto i 5.000 4.500 ragazzi aspetta fermi ci dia tempo una rapina è come se entriamo incappucciati con la pistola ma andate a rubare una cosa che mi è capitata anche a me che ho notato è vero qualche un anno e mezzo fa avevo spostato una quantità comunque abbastanza importante di soldi dalla mia banca a un altro conto e quelli mi hanno chiamato cos'è successo a me i primi bonifici che mi sono arrivati da questa piattaforma mi ha chiamato la banca mi fa rimandarci tutte le fatture però effettivamente è una forma di controllo per capire ma che controllo di controllo ma mica siamo spacciatori e poi gli spacciatori è tutto contante che cazzo pretendete cosa pretendo io se avessi solo se fossero contanti a me hanno contestato a me è sbagliato a me hanno contestato che una volta mio padre mi ha fatto un bonifico di 20k ero stirato non ho vergogna a dirlo stirato non ce ne ho manco i soli per sigaretta alla canna mio padre che mi vuole bene che grazie a Dio faccio santo mio padre mi dice ah mi hanno contestato il bonifico mio padre mio padre ha il mio cognome Romeo la banca mi ha chiamato ma scusi ma qua 20k ah mio padre chi mi sta dando dei soldi che cazzo ha detto e premetto mio padre in questa banca c'aveva il conto mio padre era banca su banca ragazzi ma di cosa parliamo è diventato uno stato di dittatura e la dittatura sono le banche ricordate le mie parole chi comanda sono sempre le banche ma tu Nevio sei d'accordo con questo discorso? ma stai scusando e io aspetta Greenbound finisco qua scusa Nevio e io sono l'unico l'unico che ha il coraggio di dirlo davanti a tutti l'unico perché tutti la pestano come me ma non c'hanno le palle per dirlo perché c'hanno paura no se no Filippo ma scherzi se no poi la bam ma mamma io lo dico davanti a tutti non mi interessa lo dico davanti a tutti perché io sono più vero in assoluto e me lo scrivono anche su Insta e dico sempre quello che penso questa è la mia opinione modesta è umile opinione poi se la gente la pensa diversamente io rispetto tutti per me funziona così però c'è un problema Nevio tu sei lavoratore da 20 anni e sei in regola tu hai soldi no non hai soldi ma no è vero come fanno a darti i soldi ogni mese? la prepagata hai intestata immagino la prepagata sì ma c'è una legge se non sbaglio che sotto sotto i 2.000 euro non ti possono prendere i soldi capito? non ti possono perdere cioè se lui avesse 50.000 sul conto potrebbe avere de noi ma se lui ogni mese sta sotto i 2.000 1.500 1.600 c'è una legge mi sembra io sono ignorante dove non possono perché quei soldi sono necessari per vivere capisci? esatto certo non esiste poi scusa se io ho 7 milioni di euro per dire di debiti con le banche cazzo se ne fanno 5.000 euro se no ci mettono 800 anni per prendere ogni mese è arrivata un'altra fettina sono passati 30 anni prescrizione voglia una volta arrivavano i pacchi di lettere così ma tu non hai visto un po' un periodo che aveva paura se qualcuno bussava a casa ma che cazzo me ne frega a me mi stracciava a me io prendevo tutta la roba e stracciava magari quando suonavano alla porta dicevi oddio che cazzo guarda non c'è la flash sono stirata non mi rompe i coglioni cazzo vuoi cosa mi prendi quando viene a casa mia cosa mi vuoi prendere magari ti era rimasto qualcosa c'è stato un momento in cui hai fatto l'ultima puntata in cui hai finito tutto 0 sotto 0 quei debiti e ti ricordi scusa il momento in cui hai detto ok non ho più niente 0 e ti ricordi quel momento dove eri in mezzo alla strada come mezzo alla strada si ho fatto un anno in macchina dormito mamma mia ho una vergogna dirlo davanti a tutti no 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 picca vacca non sapevo aspetta io non lo sapevo io perché se ci fossi stato io ovviamente lo prendevo a casa mia poi io è quello che sapessi di vista che si spiegava all'inizio sapessi di vista 7-8 annetti lui ne ha vissuto un anno in macchina ragazzi un anno in macchina non c'è mangiare primo mese non in macchina primo mese in mezzo alla strada e anche sui treni ma di racconta questa è bella racconta come ti facciano le multe sulle panchine di notte racconta racconta una volta dormimo alla stazione sai la stazione faceva freddo a novembre dicembre sei nella sala d'attesa ero lì faceva freddo dormio lì arriva sto poliziotto segue la polizia la polfer la polfer si chiamava allora allora entra dentro questo qua erano le 6 del mattino ma lei cosa fa qua adesso devo fare la multa come la multa? la multa? si non sto scherzando allora mi fa entrare nell'ufficio fa la multa a un certo punto 20.000 lire una roba del genere io ho preso la multa in faccia a lui e gli ho detto glielo ho strappato e gli ho detto coglione adesso mi devi arrestare hai sbagliato personaggio io sono venuto qua per dormire per riposare io non c'ho una casa sono un senza tetto che cazzo vuoi che ti pago 20.000 lire non c'ho neanche gli occhi per piangere non ti vergogni testa di cazzo proprio così ha detto arrestami coglione ho preso la multa l'ho strappato in faccia me ne sono andato ti dovresti vergognare perché una persona cioè vedi il mio carattere è diverso io sono molto tollerante che le persone a me queste cose mi danneggiano a livello proprio poi la colpa è mia cioè nel senso io ho fatto quello che ho fatto tutta colpa è mia quello che vuoi ma tu mi dai una multa da 20.000 lire perché dormo dentro che poi non c'è nessuno per mangiare non è la multa no no lascia stare è il concetto è il concetto capisci ti dovresti vergognare ti dovresti vergognare se io sono un poliziotto e vedo Greenbaud che è disperato che dorme alle 5 di notte in stazione lo svedico ma cosa fai qua mi fai la multa sono un senza tetto ma secondo te io io come non Filippo Champagne Filippo ma secondo te io come Filippo Romeo che è il mio nome cognome secondo te io do una multa a un senza tetto al massimo mi dico guardi per oggi posso chiudere un occhio però io sono buono ma magari domani arriva il mio collega le può dare magari la compagna fuori ma io gli metto a fare la multa ma ragazzi ma dove sta ecco perché ecco perché queste cose qui a me ti toccano quindi sai io su quelle cose lì sono abbastanza io sono molto sensibile sono una persona molto sensibile quando a me capitano queste cose poi sai dopo ci pensi tante volte non avevo voglia di dirlo tante notti ho pianto perché è normale sai la parte della persona però sai cos'è la differenza fra me e tante altre persone che io quello che voglio insegnare ai giovani se capita una roba del genere non fate quello che ho fatto io assolutamente ma vi dovete rimboccare le maniche io mi sono rimboccato e da solo voglio sapere il processo da dormo in strada a sei qua adesso qui sei tranquillo no niente tramite amicizie ho cominciato a lavorare in TNT a Milano facendo la notte poi tramite un mio amico mi ha fatto entrare in TNT a Munza e da lì ho cominciato a fare il corriere e piano piano mi sono risollevato a 40 anni tu ogni tanto non dici cioè ripiensi magari i soldi che avevi dici cazzi mi mancano no no non mi interessa zero a noi ragazzi a noi dei soldi con come dice lui con o senza ce ne può fregare no no poi è normale che i soldi sono comodi a tutti a me adesso a me servono per vivere giustamente sai poi io non voglio fare il nome una mia amica carissima che Filippo conosce che a me è stata lei la mia salvezza che tuttora ci sentiamo due o tre volte al giorno cioè io sono un'amica lei è di più posso dire tutto ma io anche parlando col bere se io posso bermi che a me è successo più io magari l'ho spiegato quelle volte anche alla Zanzara o altri podcast io magari faccio due mesi che c'ho la fresca in tasca faccio l'americano poi magari faccio tre mesi che al posto di bermi cristal adesso sta andando abbastanza cristallino cristallino però ti dico ma io che bevo il cristal e mi posso divertire con voi tre o bevo la tennis a me non cambia niente cioè tu non sei uno che se tipo io ti invito magari a casa mia fai finta che ti invitavo ti invito un giorno a casa mia entri e vedi che insomma a casa proprio cioè come dire magari con stendino top spot non so come dire la casa che vedi la casa umile la casa proprio quella che vedi ragazzo mi siedo con te a tavola senza nessun problema poi magari mi dai un vino che non mi piace ma fidati che mi è già successo in passato lo bevo senza problemi poi certo magari non lo apprezzo come mi piace bere un vino importante ma io ho bevuto ragazzi la gente non lo sa io ho bevuto anche il tavernello ragazzi io ho bevuto anche il tavernello voi non lo sapete ragazzi ma c'è una mia vecchia storia di anni fa che ho bevuto anche il tavernello non è una roba così illegale il tavernello è una roba che se ti bevi dei buiti del tavernello vai sotto terra si esagera ovviamente visto che stiamo parlando di vini io ho preparato una piccola sorpresa sono andato all'esse lunga e ho comprato due champagne e tre vini ho preso un vino veramente scrauso un vino di media categoria e un vino che in teoria è buonino vini rossi o vini bianchi vini rossi che cazzo dici? champagne o vini rossi? no ho preso tre vini e poi due champagne stiamo parlando prima dei vini un vino sminchiato un vino medio un vino che costa 40 euro è un buon vino può essere un buon vino ma vino rosso da 40 euro e poi ho preso due champagne uno scrausissimo e uno invece che costa anche di 50 euro ecco non ha preso il sassicaio io ti dico la verità però sai io ormai sono abituato ma non per fare il fenomeno altrimenti lo puoi dire meglio sono abituato a bere vini di una certa importanza che le 50 euro non si penso che non se ne parla neanche ma non perché voglio fare il fenomeno quindi quando sei ti ho fatto prima l'esempio ne abbiamo parlato quando sei abituato a bere vini di una certa importanza e a non bere più vini quindi io è difficile che ti sappia riconoscere si ma infatti è un gioco poi se mi dici proviamo ma volentieri ma io ragazzi sono qua mi metto subito però ti dico se tu mi fai bere un crystal che lo so riconoscere bendato o un Dom Perignon te lo so riconoscere subito ma se mi fai bere uno champagne di un Vigneron che costa 50 euro che ho bevuto una volta o due in vita mia cosa posso dirvi no ma non è cioè anche se da 50 euro tu mi dici che è un buon prodotto ma non te lo so valutare si ma non ma il giorno per arrivare io dico tutti quanti porcheria e quindi sono a posto si ma quali le porcherie vabbè però secondo me un tavernello da un vino da 30 euro secondo me si lo riconoscere il tavernello il tavernello costa 3 euro anche tu nevi lo bevi bene il tavernello lo beve è solo Parenzo Filippo lo sa Parenzo salutone ciao Parenzo 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 è il numero uno però ha ragione Filippo poi c'è una cosa a dire ragazzi i vini buoni a differenza un vino che magari non è tanto buono alla mattina ti alza il mal di testa il vino buono come si chiamano i solfiti c'è tanta di quella roba là quindi sai il vino buono quando ti alzi e non c'è il mal di testa vuol dire che è tanta roba cioè cambia è normale beh certo effettivamente io ad esempio lui lo beve lo champagne però ultimamente Filippo lo sa ne bevo poco champagne Filippo lo sa ma tu sono uno che beve tanto Trinca hai venuto? eh? tu sono Trinca? no prima si prima bevevo molto di più adesso ceni bevi il vino adesso poco Filippo lo sa due tre bicchieri però ho più il vino e quando andate quando andate a fare le vostre ospitate in discoteca ci date dentro oppure state belli sul pezzo non vediamo non tanto bicchiere magari prima di andare andiamo al ristorante beviamo due o tre bicchieri Filippo magari sai Filippo poi gli piace bere molto di più di me naturalmente però prima i primi tempi poi i primi tempi con Filippo bevo ti ricordi bevo tanto ma tu adesso Filippo sei ubriaco no? ma va per ubriacarsi Filippo deve stare 24 ore su 24 a bere che ubriaco non so neanche brillo ma realisticamente scusami se io adesso non lo facciamo ovviamente non è che un bel messaggio se ti prendo una bichetta di champagne e ti dico bevitela tutta no champagne alla goccia non riesco però lo champagne preferisci godertelo piuttosto rosso ho provato a bermi un litro di amarone da 17 gradi no la champagne non ce la fai no balcolavo l'ho bevuto ho avuto in 2-3 minuti un po' di sbandamento di testa ma poi tutta la sera ho avuto finire sedermattina però bepisci come un drago immagino io poi ho un prema di salute quindi bevo tanta acqua quindi vado in bagno a far pipì penso 40 volte al giorno ok e si perché per forza l'acqua la devi bere quando bevi sempre bere io bevo 4 di acqua al giorno giusto vai bene te lo dico io vedo le bottiglie sulla macchina vi faccio questa domanda prima di assaggiare i vini vi potete fare delle critiche a vicenda tu che cos'è che criticheresti a Filippo a Filippo si c'è qualcosa che dici di Filippo l'unica critica che faccio a Filippo che è troppo nel senso buono coglione coglione nel senso capito che lui è troppo certe volte è troppo buono ma pensi sia anche ingenuo a volte è ingenuo quello si glielo ho sempre detto sei d'accordo sai cosa che lui tante volte si fida troppo delle persone io purtroppo ho un difetto che mi confido magari con persone appena conosciute mi danno al primo impatto mi danno un buon feeling quindi mi confido e poi le mie cose vanno in giro ma ingenuamente perché non lo faccio neanche senza senza pensare male magari anche con le ragazze soprattutto trovi magari quella ragazza che ti dà quella voglia di parlarle di te e poi lei magari in realtà non ti dà quel feedback che aspettavi che volevi che pensavi io lo spiegavo anche con quell'altro ma io sono dato un punto che una ragazza se non mi prende non ci sto neanche a perdere tempo ma neanche per riuscire a mangiare una piadina un caffè una ragazza mi deve toccare il cuore adesso è normale mi schivano tante ragazze posso uscire con cento ragazze ma non per fare il di più io sono una persona normale sei un bell'uomo però quello si quelle ragazze me lo dicono però ti dico io voglio devo trovare una ragazza che mi tocca il cuore se mi tocca il cuore è l'unico che gli ha toccato il cuore adesso uno gli ha toccato il cuore lo scherato è regolare posso andare certo certo no qua no no qua non si può ma la sigaretta si ti aspettiamo ti aspettiamo quindi sai la ragazza ti dico la verità mi deve mi ha lasciato la sigaretta nevio passami le sigarette dopo te le posso chiedere se mai presti una ma prendila subito aspetta te la prendo io scusate mia ragazza ho lasciato di lì oh nevio al telefono ti stuona lo passo io tutto IMS ma che cazzo ma cos'è non gli do me lo stuono l'IMMS mi sa ma non mi rompe i cuori tomico mio oh grazie quindi sai una ragazza stavo dicendo una ragazza ti devo chiedere anche si me la fai fumare me la fai fumare poi te la prendo è abbastanza carica certo certo ti dico una ragazza mi deve toccare il cuore se mi tocca il cuore le do tutto poi le toccano aspettate chi le ha la botta le ho chiusa io adesso è il momento del test del vino tra poco che problema c'è facciamo io sono veramente curioso mamma mia però devo dire che secondo me magari una persona ti vede dalla zanzara così magari ha un po' paura di te come per dire magari se lo invito da qualche parte devo fargli vedere che anche io ho i soldi così almeno mi sento un po' come lui ma perché la comunque sono pillo io sono la persona più alla mano di tutti ma stai scherzando a me non mi interessa a me non interessa l'ho già detto prima io posso bermi le tenez adesso bevo la birra Moretti ma qual è il problema certo non è che bevo solo la bottiglia da 500 poi certo quando ho i soldi in tasca voglio bere da Dio io bevo la bottiglia anche da 3000 euro ma che vuol dire ma ti sei mai ballato un orologio? uno ma quello che hai adesso addosso è nuovo? questo è nuovo ne ho ballati 5 di orologio 5 come fai a ballare a orologio? tu veramente vai tipo a campione puoi lasciare lavoro e dal dealer ti diamo il pianeta no calmo una volta c'era ero piccolino parliamo di 30-40 anni fa esisteva sta cosa lasciami i orologi dai soldi no io me li sono ballati andavo da un commerciante quindi il commerciante ti tira il prezzo perché sa che sei in difficoltà tu accetti pur di giocare e accetti qualsiasi prezzo 5 5 ne ho ballato 5 ne ho ballato idrolo oggi ragazzi oh no fa niente fa niente 5 ne ho ballato ma pensa a te comunque e chissà magari mi ballo anche questo a breve che cazzo me ne frego non mi interessa dai dopo andiamo al casino tutti insieme eh ma stasera sono un po' stanco sono due serie di fila tre serie di fila che ci vado che vinci o che perdi? no benino dai se perdo perdo poco se vico vico ma tu sei uno che quando va al casino è uno di quelli che tipo parla col dealer tipo gli dice dai dammi la carta buona dai dammi il dieci ora non è che parlo tutti i croupiedi di tutti i casino di svizzera mi seguono tutti mi conoscono tutti quindi è normale che si parla ma scherzando ma mi conoscono tutti anche quando vado al casino tutti i ragazzini Filippo 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 è diventato una roba incredibile però non ti devo rompere i foglioni con te no perché quando gioco i soldoni veri c'hai la tua saletta no la mia saletta il mio tavolo privato nessuno può giocare con me gioco solo io poi i soldoni veri c'è gente che gioca 20.000 a botti io gioco 1.000, 2.000 3.000 a colpo non è che vado c'è gente che va nei privé e giocano anche 10.000 a colpo anche 100.000 a colpo ma se tu li avessi li giocheresti? ma tutta la vita ma stai scherzando ma scusami ma quando è che ti fermi quando sei in profit? quando vinco bene se sto vincendo bene che ne so c'ho una Puglia di 5.000 euro se ne vinco 7.000-8.000 puliti mi fermo ok poi se sono in serata se sono in serata che però arrivo da serata che ho vinto allora attento al colpo ok siamo pronti per il test del vino vai Nevi assaggiamo vai c'è un Barbaresco aspetta no non devi dire non mi ah già non devo dire vabbè Barbaresco si puoi dirlo perchè è il Montepulciano ok di tra i vini che vi sono perché il Barbaresco è proprio un vino pensa avete scelto Barbaresco un vino che a me Piemonte non piace proprio però assaggiamo dai e poi c'è il Montepulciano d'Abruzzo quindi Barbaresco Montepulciano e l'altro e l'altro non lo so io a due non l'ho visto ma andiamo a coppie di due uguali vabbè assaggiamo comunque fidati se avessi 2 milioni di euro andrei a casa no Blackjack 10.000 a colpo 20.000 a colpo vabbè con 2 milioni 10.000 ci sta è tanta roba ok iniziamo con questo vi va bene bene il nostro bicchiere ma si ma che problema c'è nego è mio nonno quale il problema anzi iniziamo con questo con il suo nonno io è regolare facciamo questo qua annusa avvicinati pure alla ma 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 spegni il telefono dai mollelo mi hai mai rotto il cazzo è bello che hai risposto adesso lo spengo proprio vaffanculo oh ma tutte le volte chiamo a quest'ora questo qua poi sconosciuto che cazzo è c'è una cosa che ha fatto una faccia e lo quente il tuo giudizio iniziale questo non mi piace vai nevione però secondo te allora ricordi che ce n'è uno alto medio basso e fammi assaggiare prima tutto questa me non piace proprio non so magari ho la bocca impastata per il sigaretto questo non mi fa impazzire tu ti ricordi ciao ah tre sono giusto Filippo questo sembra acqua figa no non lo so non l'ho assaggiato sembra acqua sporca questo senti che roba non so sarà barbaresco acqua sporca si diciamo se abbiamo sparato a casa gli ho indovinato sembra acqua sembra acqua sembra acqua figa ok adesso assaggio l'ultimo l'ultimo quello è scarsissimo quello è di bassa qualità te lo dico io forse questo è già meglio non so perché colore com'è meglio di quello è il penultimo che abbiamo assaggiato quello in centro meglio di quello per me rispetto al primo Filippo il primo posso assaggiarlo il primo quello per me è il peggiore poi magari sarà quello più buono allora secondo me adesso fia questa è acqua questo è imbevibile questo è quello di prima questo è il primo è il primo è il primo fia anche questo questo è quello secondo me è quello più più corposo questo è questo più corposo quindi quello ci avete preso quello lì è il più corposo e quindi chi è più forte non sapevo niente non sapevo niente non sapevo niente ragazzi in diretta con Grimbano non sappiamo niente ho dovinato adesso fammi valutare su questi due posso riaverlo? questo best possiamo dirlo quello scadente che cos'è? allora uno dei due è il tavernello ok ok quindi attenzione uno di questi due è il tavernello vabbè comunque vedete che con vino di qualità non abbiamo sbagliato ma aspetta il tavernello è l'altro faccio di prezzo dell'altro all'incirca? è il super al tavernello beh che è il super al tavernello? chi è che non super al tavernello ragazzi? poveri cazzo quello a metà no quello a metà quant'è? e quello al tavernello quanto costava? quello a metà 3 euro no dai due porcherie vedi? però cosa ho detto? tu mi hai ripassato quello di prima sembra acqua tutti e due l'ho detto quindi devo indovinare qual è il tavernello 50 euro per quello buono quello abbiamo indovinato quello buono abbiamo indovinato ragazzi indovinato quello buono c'è vino corposo al tavernello vedete che non è che è tutto fenomeno che sta a mia neve adesso c'è un champagne troppo aspetta però vai cerchiamo di indovinare il tavernello vediamo devo indovinare qual è il tavernello aspetta tutti ricordi ciò di qual è? per me è quello di acqua quello che sta di acqua aspetta eh per me è quello che sta di acqua ciao la mia? per me il tavernello è questo eh mo? eh ragazzi è quello che ho preso dal mezzo sì per me è questo il tavernello per me è questo acqua senti per me è questo acqua se non c'hai schifo senti che acqua per me questo è il tavernello tutta la vita sì sì questo qua il tavernello ragazzi non si sbaglia un colpo qua scusate eh ragazzi poveri poveri adesso lo champagne beh sui rossi oh sui rossi tutti li avevamo azzeccati non sbaglio bravo bravo ho azzeccato tutto gianlucone non fottemi col vino gianlucca di qualcosa va ci abbiamo preso eh ci abbiamo preso tutte e tre eh aspetta tieni sinistra da così minchia il tavernello è acqua allora acqua ragazzi acqua sport ho dominato però i miei prodotti vai uno è un bella vista sì e l'altro una merda una merda cosa vuol dire c'è il cazzo non dimmi se è prosecco se no lo sto ricordando è roba con scritto sopra champagne no non è champagne ma aspetta è uno spumante o un prosecco senza spumante quindi sono due spumanti uno è un bella vista forte e l'altro assaggiamo aspetta qual era cioè come erano no è vero no lo so io come erano tanto si vede già dal pervallo ok ok ce l'ho no credo lo so vabbè ovviamente è troppo facile questo si vede a vista si vede dammi l'altro senza neanche assaggiarlo questo è bella vista e questo è l'altro chi è il più forte chi è il più forte chi è il più forte senza neanche assaggiare a naso sbaglio è bella vista non lo bevo mai l'altro è una porcheria non so cos'è è regolare ma dai giallupi che cazzo chi fate bere volete sfidare più forte col bere ragazzi indovidato tutto giuro che eravamo d'accordo dillo io non sapevo niente non sapevo niente è giusto è giusto adesso è il momento delle critiche vai spariamo con le critiche adesso amico mio fumano se vuoi vai tranquillo grazie sarà un momento sarà un momento inedito in questo canale perché la volta scorsa un po' c'è stato criticato del fatto che siamo andati un po' troppo leggeri con te Filippo ok vai spingiamo vogliamo dare diciamo la responsabilità alla fanbase incazzata di Greenbound ok avanzarvi delle critiche a te a Nevio entrambi siamo qua pronti ce l'abbiamo prontissimi ok caricate la te vai ragazzi massacrateci massacrateci ragazzi carichi che ci beviamo la fresca più tardi avete caricato ma avete allora con calma devo un attimo tu giochi intanto vai avanti sì sì no io in realtà volevo farvi una domanda un pochino estemporanea che mi sorge così spontanea ma avete mai litigato potente ci minchia recentemente due ci si fa quasi alle mani siamo andati poi non saremmo mai andati alle mani motivo no motivo tutte e due in colpa la stanchezza eravamo distrutti 6 del mattino dovevi andare a casa purtroppo non potevamo andare a casa perché eravamo senza passaggio eravamo con altre persone e lì siamo sclerati ma poi è finita il giorno dopo ha vinto la luce ah ok quindi dal giorno dopo era proprio per stanchezza eravamo in giro dal 1 di pomeriggio eravamo 6 del mattino abbiamo bevuto eravamo andare a casa purtroppo eravamo con delle persone che non volevano vedi io giustamente sai avendo bevuto ragazzi lo dico ai più giovani non guidate mai quando siete bevuti mi raccomando però lì ho detto guida un mio amico così io posso divertirmi e ubriacarmi purtroppo questi miei amici volevano rimanere lì Nevio era stanco doveva lavorare il giorno dopo alle 6 del mattino purtroppo ci siamo poi per sbaglio scannati io e Nevio ma poi il giorno dopo è finita lì subito assolutamente siamo pronti chiamiamo questa persona noi siamo Sandra e Raimondo vi faccio vedere la faccia è un uomo comunque eccolo qua non so se avete mai visto su TikTok lui è uno molto come si chiama? uno distinto Matt Carlos e ha qualcosa cioè comunque ce l'ha con voi io gli ho scritto ma tu hai qualcosa quanto lui ho detto ti detesto vai fai chiamare chiamo non c'è problema ma parla lui sì 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 certo parla lo sentiamo qua o lo sentiamo col tutto lento lo sentiamo con il tutto lento Matt? Matt? eccoci mi sentite? sì aspetta un secondo di teatro e volume occhi che però non faccia eco ragazzi diteci se fa eco parla Matt? prova 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 ora provo a dire qualcosa di completamente insensato solo per vedere se fa eco se mi sentite bene mi sentite un due tre prova va bene mi sentite? ok ok è ok non lo vedremo perché è come se fosse un po' una chiamata un po' per richiamare quando c'è Parenzo che non si vede la faccia è regolare prego Matt prego ciao no no ma meglio che non mi si vede la faccia perché sono abbastanza stupito della presenza di questi personaggi ma non tanto per diciamo le persone che possono essere al di fuori di quello che mostrano sui social perché lì non li conosco personalmente ma per quello che portano avanti sui social quindi quello che quello che esprimono quello che fanno vedere e soprattutto quello che fanno no? e quindi mi domando ma come non avete una coscienza non vi sentite in colpa per i messaggi che mandate? ma in colpa di cosa scusami qual è la colpa? spiegamela tu qual è la mia colpa qual è? spiegamela spiegamela diffondere 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 la dipendenza dipendenza che oggi il 99% degli italiani di qualsiasi età da maggiorenni non consideriamo i minorenni che giocano anche i minorenni dai maggiorenni fino a quelli di 90 anni giocano tutti e magari giochi anche te che mi stai parlando o sbaglio? hai mai giocato tu? rispondimi no sbagli completamente beh certo sei il classico moralista sei il classico tutto te oggi il 99% degli italiani giocano tutti compresi chi fa sport chi fa sport i professionisti giocano anche i professionisti e allora infatti infatti noi parlavamo io e Nevio la gente abbiamo avuto ancora più ragione giusto Nevio e poi sono casualmente dopo un mese che andavamo io e Nevio alla Zanzara è uscito il calcio scommesso che la gente gioca giocano tutti e sai cosa ti dico come si chiama sto ragazzo? Matt Matt educatamente te lo dico perché rispetto la tua idea giustamente perché ci deve essere anche della gente che ci dà contro io rispetto tutti però caro Matt quando io torno a casa le serate ti dico alle sei del mattino sei e mezza che magari mi fermo in un bar io parlo di un bar abbastanza grosso che tiene sali e tabacchi l'ho già spiegato mille volte e lì non vedo i ragazzini di 18 anni che magari vanno a scuola o devono andare all'università lì vedo gente vecchietta di 60 anni persone di 50 tutti che giocano grattevinci il super enalotto quello in diretta quindi la colpa è mia è mia che sono giochi che io detesto perché il grattevinci lo detesto il super enalotto lo detesto e il lotto lo detesto eppure sono tutti lì a giocare vieni com'è una mattina matta visto che penso che sei un lavoratore visto che sei una persona come dici te regolare moralista vieni com'è una mattina fa colazione sei e mezza scegli te un bar che abbia sale e tabacche le contiamo insieme che abbia sale e tabacche le contiamo insieme le persone che giocano e ti posso garantire caro Matt che queste persone qua nessuno mi segue sui social eppure giocano tutti giocano tutti allora sicuramente queste persone che tu hai detto giocano questo certo le vedi senz'altro so che ci sono ma queste non rappresentano il 99% delle persone di questo mondo quindi non è vero che tutte le persone come dici tu giocano è vero che c'è un'alta percentuale di persone che giocano non è di sicuro vero che giocano la maggior parte delle persone come no come no la maggior parte dei treni gioca tutti poi ti dico Matt tu hai ragione tu hai ragione perché io dico sempre ragazzi come dico sul bere fatelo sempre perché io ho fatto anche vedere quando gioco alle slot online dico ragazzi mi raccomando vi piace giocare piace a tutti fatelo sempre con le proprie possibilità economiche e sempre con responsabilità e questo guarda che se vai a vedere le mie storie come lo dice Nevio l'abbiamo sempre detto poi se un ragazzino mi prende da esempio Filippo gioca a 1000 a Casinoma Filippo a 10.000 sto ragazzino a 1000 si gioca a 1000 e non è un problema mio io non gli punto la pistola a Matt gli dico devi ballarti tutti i suoi che ti dà il papà o che guadagno o che lavori io non è che punto la pistola alla gente come quando io andavo dalla Cerenza e spendevo 20.000 a sera e la gente mi dice Filippo sei un coglione che ti balli 20.000 a ride a me Davide la Cerenza non mi ha mai puntato la pistola a Matt io ho spesi con il cuore mi piaceva fare festa mi piaceva fare cinema mi piaceva fare pagliaccio mi piaceva fare giullare e quindi le cose nascono così ma io dico sempre Matt con moderazione adesso ti risponde nello scusa scusa Matt ti posso dire una cosa quanti anni è te lo posso chiedere 31 allora io ne ho 65 ho più esperienza giusto? un po' di no dipende no 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 non è un indicatore di esperienza no 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 comunque ho un po' più di esperienza ti faccio capire un po' certe cose percorre la strada giusta stai parlando Matt scusami con Nedio che ha 31 anni aveva un'impresa di parquet aveva 20 dipendenti e fatturava un miliardo e mezzo quindi forse un po' di esperienza ce l'aveva Nedio scusami se mi permetto poi magari in negativa no 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 si è ballato tutta l'azienda pazienza ascoltami Matt ti posso dire una cosa allora il fattore dei giovani che giocano all'età di 14 15 anni 13 anni 12 anni 11 anni quello che è parte sempre da un concetto cioè parte io ad esempio quando ho iniziato avevo 12 anni 13 anni a casa mia si faceva la scala 40 fra noi giocavamo a soldi capito non si giocavamo perché i soldi non ce li avevi quindi quando il ragazzo arriva a 16 a 7 anni e incomincia a avere qualche soldino da quella scala 40 che giocava senza soldi parte tutto da lì è una catena capito e quindi tu non puoi dire dai l'esempio agli altri che noi ci balliamo la fresca e andate tutti stirati noi lo diciamo anche per ridere per scherzare lo facciamo è un gioco cioè per noi è un gioco capisci e la gente è contenta ride ti vede i video si mette a ridere però io non cioè io dico sempre alla gente ragazzi non prendete il mio esempio non fate quello che ho fatto io cioè se guadagnate mille spendete 100 se volete spendere al gioco perché Matt credimi non sarà il 99% ma l'80% è tutto in Italia tutti giocano te lo dico non è assolutamente lo dico Matt scusami Matt te lo dice Nevio ma scusa fai tu le statistiche le fai tu le statistiche no ma se andiamo se andiamo a controllare sicuramente non è l'80% ragazzi non è l'80% e quant'è io posso anche accettare le opinioni diverse ma non i dati non è l'80% perché se no vuol dire che su 10 persone in questo momento le chiamiamo 8 giocano certo facciamo una prova facciamo una prova chiamiamo 10 persone scommettiamo che 8 giocano giocano anche Grattavici tutto tutto giocare tutti anche se giochi un euro al mese è sempre giocare una visione totalmente sbagliata perché voi vedete quello tutti i giorni quindi pensate che sia quello ma cosa stai dicendo ma cosa stai dicendo che noi andiamo in giro nelle discoteche e nei locali la gente tutti quanti mi dicono mi portano le schedine tutto le bollette cosa stai dicendo e sono tutti così ma sono tutti così e in discoteca ci sono 1000 persone 1500 non ce n'è 10 come dici te e tutti la stessa cosa Filippo bagliamoci la fresca l'altro sera su attaccarsi da Lugano c'erano 10 ragazzi dai 20 ai 30 tutti che giocavano fino a 6 numero 1 ci bagliamo tutto uno ha fatto che una battutaccia tu frequenti ho capito il casino ma cosa vuol dire il casino gioca non scusi tu frequenti un tipo di luoghi e un tipo di persone che fa quello quindi tu costantemente vedi quello perché ci sei dentro se tu vai in un ospedale le persone che sono in un ospedale che vuol dire l'ospedale ma non venimi a fare il moralista ospedale parami di povertà in ospedale ma cosa vuol dire l'ospedale ma cosa c'entra l'ospedale adesso ma la gente in un ospedale sta male come fai a giocare ma che discorsi fai ma come parli ma che c'entra ma in libreria piuttosto ma cosa c'entra l'ospedale dai ma togli la linea che con questo parla l'ospedale ma lo scherziamo dai c'è la gente che sta male in ospedale parla di giochi in ospedale ma lascia stare dai dopo questa che hai detto Matt non ti rispondo neanche più parla a Città di Nevio vai ascolta la fuori in ospedale perché non sai più cosa dire ma lascia stare ascolta la fuori in ospedale che la gente sta male un esempio sbagliato sbagliatissimo ascolta Matt sai cos'è la cosa sai la cosa assurda no? tu parli di ospedali tu stai parlando con lui con l'ospedale sono anni che lo vedete ho fatto un esempio poteva essere una biblioteca solo che non mi lasciate finire biblioteca ti dico hai ragione ma l'ospedale non devi metterlo dentro Matt no io posso mettere dentro tutto perché se no allora se parliamo di statistiche voi avete detto all'inizio di scorso il 99% vuol dire tutto no io non ho detto il 99% io ti ho detto per me l'80% degli italiani giocano tutto per me il 99 Nevio il 99 vuol dire che la gente in ospedale gioca queste sono le vostre statistiche no aspetta aspetta guarda la gente che va in ospedale tipo me se mi ricordo magari gioca anche online si gioca anche online dipende in ospedale la gente se sta male veramente oppure ha un piccolo acciacco ha un problema si fa vedere è un discorso troppo generale però la maggior parte di italiani se voi frequentate posti diversi come per esempio una biblioteca troverete la maggior parte di persone che hanno interessi diversi quindi secondo te scusami 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 secondo te in biblioteca non trovo nessuno che gioca facciamo una scommessa che in una biblioteca ti trovo 30 persone che giocano facciamo una scommessa ma non le andiamo andiamo insieme scegli la te la biblioteca scegli la te la biblioteca scegli la tua andiamo insieme e vediamo vedi qual è il tuo mindset il tuo mindset è scommettiamo sei sempre inclina a scommettere certo sono un giocatore ludopatico mi ballo tutto e anche le mutande mi ballo se voglio me le ballo anche le mutande se voglio capito perché i soldi sono i miei e con i miei soldi faccio quello che voglio sia chiara sta cosa e non te li vengo a rubare a te i soldi sono i miei soldi miei, della mia famiglia cazzi miei sono i miei soldi e mi li ballo quanto voglio non li vengo a prendere né a te né al bibliotecario né a quello che il poverino sta mai in ospedale e né a Nivello Stirato né a Greenbound se voglio gioco non è un problema di scommettere sempre io adesso scommetterei anche qual è il sonoro qual è per abbassare alzare chi è che è più bravo scommetto tutto quindi qual è il problema scommetto tutto che problema c'è quindi come la maggior parte dei giovani fanno tutti scommettono tutti i soldi se tu fossi stato attento io non ti ho criticato perché ti scommetti anche le mutande sì ma è criticato perché do l'esempio che i giovani mi seguono posso parlare scusami vai scusami 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 hai ragione scusami ti ho criticato perché ho detto secondo me nel momento in cui si sta sui social si manda un messaggio e quindi la domanda principale che io ho posto è non ti senti in colpa di tenere questa parte quindi mandare questo messaggio che indiscutibilmente per forza qualcuno viene invogliato dai vostri video anche a giocare certo sicuramente hai ragione ok e quindi la risposta qual è non ti senti in colpa di questo assolutamente no perché non punto la pistola a nessuno Matt non la punta a nessuno ma non c'entra puntare la pistola io ti sto dicendo tu stai facendo una cosa ascoltami scusami un attimo premoci chiaro tutti hanno il fascino dei malavitosi tu guarda il cinema al cinema escono solo non è che escono i film sui poveri poliziotti che hanno perso la vita negli attentati o nelle stragi fanno tutte le serie per la gente che è ammazzato per carità da Valanzasca a Turatello a Epaminonda quindi la gente anche io stesso non voglio far l'ipocrita ho un po' il fascino di questi grossi personaggi della malavita e anche io ho letto libri di loro e io mica mascherotti ammati io vado in giro a sparare vado in giro a rubare io ho il fascino mi piace li leggo li guardo e basta amica prendo la pistola domani vado a fare una rapina in banca perché voglio imitarli scusami io non punto la pistola a nessuno scusami Matt sbaglio tu non sei un film Filippo non sei un film non sei una finzione tu sei una persona reale che fa dei video dove parla di questo no aspetta però Matt scusami se ti interrompo al volo ma queste qua sono finzioni che rappresentano la realtà ai malavitosi non è che raccontano le storie inventate io parlo di gente che veramente ha vissuto scusami io non punto la pistola a nessun giovane io dico sempre ai giovani vado in discoteca con le bollette se me le filmi Filippo spero di vincere dico vabbè ragazzi io dico sempre mi raccomando giocate però non esagerate poi se è un ragazzino si gioca tutto Matt che ti devo dire non è colpa mia aspetta hanno appena fatto un sondaggio mi lavavi le mani secondo me è un peccato Matt abbiamo abbiamo una statistica su un campione cioè sulla chat di Simone statistica l'83% di quelli dei 10.000 persone presenti in chat ha giocato e allora di cosa parliamo ho capito ma il target di Simone potrebbe essere semplicemente inclino al gioco quindi il target di Simone per esempio quanti uomini ha e quante donne ha presenti in live anche questo è un sondaggio interessante anche qui possiamo determinare quale genere gioca più di un altro potenzialmente giocano più gli uomini delle donne non saprei sono più le donne che giocano caro mazzo sono più le donne le donne anziane sicuramente quello c'è ragione donne anziane sicuramente quindi quando facciamo quando targetizziamo quando facciamo dei sondaggi bisogna anche prendere dei campioni ovviamente un po' più ampi se prendiamo i campioni sulla live di Simone saranno ragazzi molto giovani da X anni a X che magari passano molto tempo davanti a Twitch eccetera e magari hanno una preferenza non so calcistica quindi magari giocano di più sulle scommesse quindi dipende non possiamo prendere in questo caso il sondaggio sulla chat di Simone per capire per determinare quante persone giocano dovremmo prendere un campione molto presteso quindi se qualcuno in questo momento vuol prendere dei dati Istat potremmo avere dei dati un po' più corretti però a prescindere da questo il mio concetto era puramente da persona che tra l'altro anche io faccio video e cerco di mandare un messaggio il più positivo possibile perché ritengo di avere una responsabilità nel farlo e quindi mi domando ma come può anche una persona più adulta che ha perso tutto incentivare quindi scherzarci anche sopra c'è delle due dovrebbe essere che una persona che ha vissuto quanto è difficoltosa una vita del genere perché anche solo proporla in modo positivo dovrebbe essere uno ragazzi assolutamente stateci fuori state lontani questo dovrebbe essere a mio avviso un messaggio da persona responsabile che vuole mandare un messaggio positivo e finisco dopo se tutti pensiamo che il mondo fa schifo il mondo è negativo tutto è sbagliato eccetera quindi diciamo beh io sono uno tra i tanti cazzo ma allora nessuno compie più gesta positive solo per questo motivo sai cosa ti dico Matt io mi sono rotto cazzo di questo cazzo di paese di bigotti del cazzo mi sono rotti i coglioni guarda ne ho piene le balle questo è un paese di bigotti di finti moralisti finti moralisti e sono tutti uguali sai perché perché Matt te lo dico proprio a me di quello che fa la gente non me ne frega un cazzo io l'ho sempre detto l'ho detto la zanzara l'ho detto in altri programmi ragazzi giocate con responsabilità se guadagnate mille se volete giocare vi piace il gioco giocate cento mai ho detto giocate duemila quindi sai il mio messaggio vuole far capire alla gente ragazzi non prendete il mio zempio non è che dovete andare alla canna come è successo a me ovvio cioè io sono ludopatico io sono un viziato mi piace il gioco adesso non gioco più come giocavo trent'anni fa che ho le possibilità gioco lo stesso ma sempre limitato però tu sei fiero di essere la canna però tu sei fiero di essere la canna ma perché non mi interessa io sono la canna ho i soldi sono sempre la stessa persona non mi cambia un cazzo la vita non mi cambia sai cosa è Matti il problema delle persone cioè io la penso così io quando mi alzo la mattina per me è sempre un giorno nuovo ho capito poi che i ragazzi giovani di oggi è vero ti do ragione prendono anche magari l'esempio delle nostre battute questo è anche vero da una parte ha anche ragione però sai noi cerchiamo sempre di dare un messaggio positivo poi ci sta che io Filippo ragazzi ballatevi tutto ma scusa un attimo è una cosa ironica è una cosa che poi dopo sai dicendo quella frase lì cerchiamo di riparare di portare il buon esempio perché non dici che io e Nevio facciamo divertire i giovani d'oggi facciamo divertire le persone di mezza età le regaliamo che ci sono persone che in ospedale Matt ci sono delle persone che in ospedale mi hanno scritto Filippo per favore stasera fai qualche storia non mi riferisco al gioco fai un po' di cinema che bevi e vai a divertirti così mi rallegri questa serata triste in ospedale perché non parliamo anche di queste cose e parliamo solo dell'atto della ludopatia che tanta gente mi scrive Filippo ho il tumore sto male mi regali un sorriso io queste cose qua sai perché non le dico mai perché non sono quelli come stasera ho fatto una storia che ho detto ragazzi la beneficenza si fa in silenzio non si fa mostrando dato fatto quello ha bisogno regalato soldi io di queste cose qua adesso guarda mi hai chiamato te mi hai venuto fuori ma io sai quanta gente mi schiede che sta male o anche persone che sono mancate perché c'era una ragazza che mi ha seguito a medaide per dieci anni malata e prima di morire ci ha scritto un messaggio che a medaide ci ha commosso cioè una roba che allucinante siamo stati anche al funerale ti dico perché e per questa ragazza qua in quegli anni che ha vissuto male io Davide o chi che sia allora gli abbiamo regalato tanti sorrisi quindi diciamo anche queste cose poi non le racconto perché sono cose molto intime non mi permetto di andare a nominare persone che stanno male non mi permetto però cioè non è che bisogna solo vedere il lato negativo di Filippo Enevio perché Filippo Enevio ha tante persone regalano tanti sorrisi ma tanti caro Matt poi purtroppo Matt sono ludopatico è vero magari tanti giovani mi prendono da esempio magari hanno guadagnano 1200 euro se ne ballano 1100 sbagliatissimo sono primo a dirlo che è sbagliatissimo magari ne guadagni 1200 sei a casa dei genitori tutti i soldi che ballatene 600 600 ti diverti su 1200 ti balleresti io tutti io sono malato io sono malato e me li ballo tutti ma lascia stare io sono un caso a parte però capisci Matt poi per carità se uno se un ragazzo giovane che va a lavorare ma non giovane uno della tua età che ha un'azienda si balla la ditta è normale che a me spiace Matt non è che mi metto a festeggiare a Matt si è ballato la ditta Matt è in mezzo a una strada festeggiamo io ci rimango male cioè sia chiara sta cosa Matt no però voglio dire Filippo il concetto io capisco io so che siete due persone buone cioè che non siete persone cattive quindi questo assolutamente non voglio dire che siete persone cattive io però credo in una ingenuità che il concetto anche di dire che voi stessi insomma comunicate agli altri che dite insomma di spendere poco ma ragionevolmente nelle scommesse nel gioco d'azzardo anche quel poco in realtà è sempre sbagliato cioè perché tu non sai mai quando quel poco ad un certo punto diventa tanto perché nella vita tu magari cominci con poco e poi ti piace perché lo sappiamo che sviluppa il gioco d'azzardo una dipendenza diventa è tutta dopamina quindi ogni volta che gioca ti gratifica quindi c'è sempre la ricerca della gratificazione istantanea per cui noi non sappiamo ad un certo momento della vita quella persona quando perde quel controllo perché tutti pensiamo di avere un controllo su quello che facciamo diciamo fumiamo una sigaretta tanto è solo una oppure giochiamo solo 50 euro io ho uno stipendio di 1000 quindi comunque sono 50 euro che metto lì sopra piuttosto che in sigarette piuttosto che in alto piuttosto che in disco eccetera ma non sai mai quanto perdi quando perderai se lo perderai il controllo c'è chi non lo perde mai c'è chi ha un grande controllo chi riesce ad essere uguale senza insomma cambiare senza farsi prendere da queste cose c'è chi invece ad un certo punto ascoltami Matt Matt sai che in Inghilterra il 50% degli introdotti cos'è? sul gioco lo sai no? lo sai in Inghilterra è una cosa positiva è una cosa positiva secondo me no vabbè vive sul gioco l'Italia si è portata avanti Grattevinci ma io però scusami aspetta fai infine parlare Matt fai infine parlare è lo Stato il primo che ti invoglia a giocare è lo Stato italiano io sono d'accordo le slot ma io sono d'accordo con voi allora di cosa stiamo parlando Matt vedi che sei d'accordo con noi Matt scusami però ragazzi il fatto che lo Stato lo faccia non vuol dire che allora siccome lo Stato lo propone è capito ma lo Stato lo fa Max tu sei giovane no è Max aspetta meglio Matt tu sei giovane tu sai Matt che quando c'avevo 20 anni le scommesse del calcio online online in qualsiasi sala erano vietate Matt io facevo il Totonero lo faccio il Totonero vabbè Matt questo questo sbagliatissimo lo facevo comunque Matt il gioco era vietato no si poteva giocare ai cavalli ok ma le scommesse del calcio allora sai cosa si faceva si caricava una tessera si mandava un conto conto gioco in Inghilterra si telefonava in Inghilterra mi ricordo lo facevo io perché io allora già giocavo come un pazzo figurati però ti dico ma secondo te perché hanno legalizzato le scommesse del calcio Matt rispondimi secondo te perché è stato legalizzato è come dice Nevi oggi gli introiti arrivano tutti dal gioco la maggior parte dello Stato che ha la canna perché lo Stato italiano è alla canna totale arrivano tutti dal gioco io ho sentito io ho sentito l'altro giorno non so quanti miliardi di euro all'anno che la gente spende a giocare e parlo di tutto Matt cavalli grattivinci enalotto scalcio lotteria lotteria tutto giocano tutto 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 però ragazzi allora se ragioniamo allora vietiamo tutto Matt tu sei un mora scusami se ti interrompo e poi ti faccio parlare tu sei uno di quelli che sei contro il gioco allora fate una campagna vietiamo il gioco in Italia ma non lo vieterà mai nessuno il gioco perché giocano tutti sono una fonte di introito c'è dietro troppo denaro come la droga perché non legalizzano la droga perché non legalizzano la droga perché c'è dietro un interesse pazzesco ma ci sono poi apriremo mille mille argomenti ma tu sei ragazzo intelligente perché insomma da come ti esprimi sei un ragazzo intelligente acculturato ma apriremo mille di discorsi dove lo Stato ha l'introito il guadagno non ti andrà mai contro è normale che poi è sbagliato come dici te allora ti dico è moralmente sbagliato poi certo non puoi vietare il gioco la gente gioca è legale in tutti i paesi come i tempi scusa Matt i tempi del proibizionismo in America negli anni 30 è dove la gente beveva di più la gente beveva di più ragazzi Matt tu sei giovane negli anni 30 sei 31 negli anni 30 in America Matt col proibizionismo era pieno di locali dove girava tanto di quell'alcol fiumi di alcol tant'è vero che poi lo Stato si è reso conto in America mettiamo legale sto alcol che guadagniamo anche noi e allora Matt le cose sono queste ma tu staresti per mettere in legale il gioco d'azzardo? no io vorrei iniziare un discorso solo che non riesco a inserirlo vai 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 allora dicevo con questa logica allora che cosa facciamo? se ad un certo punto ci sarà l'80% delle persone che consumerà eroina allora siccome la compreranno tutti renderemo legale anche quella perché ci sarà un grande ma lì c'è di mezzo al morto la gente muore per la droga non va bene quella Matt quindi la differenza qual è? che una dipendenza che porta alla morte non va bene ma una dipendenza che porta a una povertà invece quella va bene? sono due cose molto differenti bisognerebbe aprire discorsi diversi io come fai a legalizzare l'eroina che la gente muore l'eroina che sia la cocaina che sia il cannabis io per dire tutti pensano Matt tutti pensano che io sono un cocainomane io sono uno dei pochi l'ho già spiegato Simone giusto? a Green Bay l'ho già spiegato sono uno dei pochi a Milano che non pippa sono io l'uno dei pochi tu mi dirai Filippo generalizzi sempre anche a Milano pippano tutti pippano tutti nei locali pippano tutti ragazzi pippano tutti ma pippano anche di giorno pippano anche gli agenti di qualsiasi attività ragazzi solo che la gente hanno gli occhi chiusi non vogliono guardare perché gli sta bene non guardare è come il discorso Matt che dicevo prima delle banche è la verità la gente ha paura hanno tutti timore ma timore di cosa di dire la verità io sono in un paese libero e ho diritto ad esprimermi come quando voglio nei limiti dell'educazione e della legalità tutto qua Matt comunque Matt tu sei secondo te diamo il pessimo esempio secondo me no accetto la tua critica ci mancherebbe altro secondo me avete un potere che è quello invece di tenere distanti i giovani da questo e dico soltanto che a mio avviso state usando male quel potere non lo state usando nel modo di potere ma secondo te ti faccio un'ultima domanda poi adesso ne vede anche vedere ma secondo te se io dovessi fare le storie e dire mi raccomando ragazzi domenica andate in chiesa aspetta fammi finire fammi finire mi raccomando ragazzi mangiate il petto di pollo bevete l'acqua e la gazzosa perché il bicchiere di birra fa male secondo te avremmo un successo rispondimi Matt rispondimi secondo te si ma chi ma chi non a breve termine ma a lungo termine non a breve termine ma a lungo termine vabbè comunque io giustamente bisogna rispettare anche le impie di Matt ci mancherebbe altri rispetto tutti ha la sua idea Matt che dire Matt quando ci vediamo non giochiamo beviamo sei a stemio o bevi almeno oh no io sono lontano da tutte queste dipendenze ah seppure a stemio scopi non mi piace non mi piace ma la figa ti piace Matt quella quella non crea non crea dipendenza non lo sape invece si lui è contro la masturbazione no no è faticoso non crea dipendenza cioè tu sei contro la masturbazione non ho contro la masturbazione da porno da porno da porno cosa vuol dire spiegami sono ignorante in che senso mentre visualizzi un porno mentre guardi il porno e ti masturbi ah beh io di solito mi faccio le seghe senza guardare i film porno perché ho tanta fantasia ho tanta fantasia quindi sono salvo allora no eh sì sì perché sì perché in realtà tu non ti stai facendo condizionare no io non guardo mai guarda poi per carità da ragazzino che avevo 20 anni 16 anni li guardavo i film porno ma adesso li guardo più però quando mi masturbo ti posso garantire che mi masturbo tutti i giorni con o senza fidanzate io mi masturbo tutti i giorni che sia alle 6 del mattino o alle 2 del pomeriggio mi masturbo però giuro 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 che non uso non uso niente è tutto di fantasia sì sì grazie Matt ciao Matt ciao Matt ciao Matt buona serata ciao ciao siamo arrivati alla chiusura anche perché Nevio comunque eh Nevio domani deve travagliare ragazzi cuore in viola per questi ospiti Nevio che domani si sveglia prestissimo ragazzi mi dispiace ma domani mi sveglia prestissimo spero di rifarla magari più avanti è divertente mi è piaciuta tantissimo io ringrazio Grimbaudo Simone e il grande Jody cecchetto giusto grazie veramente ragazzi grazie che avete partecipato e mi raccomando sempre in gaina e baliamoci la fresca è regolare paverica paverica ciao ragazzi ciao a tutti ciao ragazzi ciao 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 aspetta che lo buttare via ste c***o